I tifosi biancorossi, abituati in quegli anni a portieri di primissima fascia, da Massimo Taibi a Flavio Roma, non rimasero affatto delusi dall'arrivo di quel veneto di poche parole e riflessi felini. Matteo Guardalben, portiere di affidabilità assoluta, visse l'ultimissima fase del mitico Piacenza da Serie A, che, con Novellino in panchina, conquistò nel 2002 il dodicesimo posto, grazie ai gol di Hubner e alle parate di Guardalben. Due stagioni nella massima serie e un campionato cadetto da protagonista assoluto, prima del ritorno in alto, con la maglia rosa-nero del Palermo. Ieri Guardalben, fraterno amico di Touram, ha accompagnato il francese nel corso della giornata vissuta a Piacenza nell'ambito del Festival del Diritto. Matteo Guardalben, abbiamo una grande nostalgietà. Credo che più di Guardalben avete nostalgietà della categoria in cui giocavo, che era la Serie A, poi abbiamo fatto qualche anno in B, però erano anni veramente meravigliosi. L'effetto ti ha fatto vedere il Piacenza sprofondare così? Guarda, brutto, perché poi ho degli amici, mi sento ancora con dei ragazzi, ormai uomini che sono qua a Piacenza. Purtroppo è la dimostrazione che nel calcio, come nella vita, se non c'è programmazione, se non vengono fatte le cose come devono essere fatte, purtroppo si passa dalle stelle alle stelle. Palermo, Parma, Vicenza, Treviso, Sampdoria e Modena, le parentesi vissute da Guardalben nel dopo Piacenza. Prima dell'addio al calcio è avvenuto all'età di 38 anni e dopo una carriera purtroppo contraddistinta da tanti infortuni. La Piacenza per me è stata la cosa più bella perché venivo da tanti anni in cui non giocavo. Avevo il portiere più forte al mondo davanti, però non ero felice. Appena mi hanno detto che il Piacenza mi voleva, sono venuto subito di corsa. Convinto, dico la verità, di fare dei campionati anche di alto livello perché secondo me avevamo una squadra sempre molto forte. Purtroppo siamo sempre un anno, ci siamo salvati, un anno retrocessi, però meraviglioso come piazza e come gente perché poi mi sentivo come a casa. Un Guardalben che non sembra accusare il trascorrere degli anni e che ai nostri microfoni confessa quale sia il vero segreto. Devo correre dietro i miei figli per quello, fare il papà. La prestazione è super di tutto il collettivo.